Buongiorno a tutti amici, vi dedico questo kit completo di Pasquetta, vi aspetto al negozio perché noi siamo persi. Quindi primo step importante, pulizia ragazzi, senza la pulizia non si va da nessuna parte. Quindi puliamo per bene il nostro iPhone 14, la mia cliente ha scelto una bella pellicola Ceramic Privacy of H, da 9,99. Vediamo un po' se riusciamo a metterla al primo colpo, non ne sono sicura però ci spero. Adesso già vi dico di no perché c'è una bollicina, tre bollicine, sì tre bollicine, vabbè ci sta, può capitare. Noi con il nostro sticker andiamo a rimuovere tutti i pelucchi in eccesso che non ci servono perché la pellicola va messa alla perfezione, altrimenti non la mettiamo proprio. Dani Martina, professionalità, qualità, gente, amici mila, andiamo a togliere l'ultima bollicina e siamo salviti da tutto questo. Continuiamo e andiamo a mettere la nostra pellicola animale zebrata, adoro. Sui colori chiari la consiglio sempre perché ha un disegno un po' più grande e quindi si vede sempre 9,99. Se hai acquistato online vi diamo anche il kit per applicarla in omaggio. Ok, il mio sendi pellicola del cuore, where is? Eccolo qua. Tira, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tombola. E infine, cycle argento, marchiata, no di qua è marchiata, marchiata, armob, gente, il mio primo marchio, sono veramente felice. 9,99, 9,99 e 9,99, sono Dani Martina, cosa aspetti? Puoi acquistare anche dal nostro sito www.animartina.it Eh sì, è Pasquetta e sto lavorando, quindi pretendo che mi vieni a trovare al negozio. Un bacio ragazzi.